La sfida del Franchi tra Fiorentina e Atalanta, allora andiamo subito a Firenze, campo principale di oggi per Fiorentina e Atalanta, Sara Meini. Buon pomeriggio a tutti voi dallo stadio Franchi di Firenze, nel segno della correttezza e del rispetto, lasciando alle spalle veleni, polemiche, insulti, razzisti e offese di ogni genere. Questi gli appelli che si sono susseguiti in questi giorni da parte dei due tecnici Gasperini e Iachini, ma anche delle istituzioni per fare in modo che Fiorentina e Atalanta sia solo una partita di calcio con tutti gli sfotto ammessi. Ovviamente ci mancherebbe, ma che non si valichi il limite della civiltà e dei valori dello sport. Sul campo, dunque, la Fiorentina rivitalizzata da Iachini vuol tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita dalla Juventus. L'Atalanta sta vivendo un momento particolare, ha vinto soltanto tre delle ultime sette partite, ma tutte le vittorie sono arrivate con almeno cinque gol di scarto. Subito le formazioni ufficiali, Fiorentina in campo con il modulo scelto dal tecnico Iachini, 3-5-2 in porta a Dragoschi. In difesa da destra, Milenkovic, Pezzella e Igor a centro campo, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovigli e Dalbert e davanti giocheranno Chiesa e Cutrone. Risponde l'Atalanta, tecnico Gasperini, modulo scelto 3-4-1-2. Gollini in porta, in difesa da destra, Toloi, Palomino e Jim City. Castagne, Pasalic, Floiler e Gosens saranno sulla linea mediana e Gomez dietro alle due punte, Ilicic e Zapata. Arbitro, Mariani di Aprilia, 13 gradi a Firenze, c'è il sole, terreno di gioco in splendide condizioni, ma soprattutto ci sono 35.000 spettatori allo stadio, Franchi di Firenze, studio. Fiorentina-Atalanta. 0-0 tra Fiorentina e Atalanta, ma in queste fasi di gioco gioca decisamente meglio la formazione di Gasperini che ha avuto almeno un paio d'occasioni per passare in vantaggio. La prima all'undicesimo con Ilicic dall'interno dell'area di rigore. Il suo sinistro a girare era perfetto per due giocatori, Pasalic e Palomino, che però non sono riusciti ad arrivare sul pallone. Dopo l'occasione dell'undicesimo da parte di Ilicic, sempre un minuto dopo, un'azione nata e ispirata ancora una volta dal giocatore sloveno. È arrivato al tiro Castagne, ma ha respinto bene il portiere della Fiorentina, Dragoschi. Siamo arrivati al ventunesimo minuto, è sempre 0-0 il punteggio tra Fiorentina e Atalanta, ma qualche minuto fa al diciannovesimo l'Atalanta si è mangiata davvero un'occasione clamorosa con Pasalic, che praticamente a porta vuota ha mandato di poco al lato, alla sinistra del portiere Dragoschi. Un'azione ancora nata dai piedi di Ilicic, che sta mettendo in difficoltà la difesa viola, ma si era allargato per Castagne. L'assist era proprio del numero 21 dell'Atalanta. Dall'interno dell'area di rigore si trovava invece Pasalic, ma da pochi passi ha fallito. Il gol che avrebbe portato in vantaggio la formazione di Gasperini. Il possesso palla è assolutamente per l'Atalanta, che ha avuto almeno tre grandi opportunità per passare in vantaggio soltanto una volta. In questi minuti del primo tempo si è vista invece dalle parti di Gollini la Fiorentina. Poco fa era il venticinquesimo, prima vera opportunità, con un'incursione dalla corsia di sinistra di Chiesa a scambio corto all'interno dell'area di rigore per Cutrone. Però è stato bravo e prontissimo a ribattere il portiere dell'Atalanta Gollini. C'è Gerbo indietreggiato che poi fa qualche fatto... La Fiorentina, scusami, intervengo dallo Stadio Franchi, è passata in vantaggio la formazione di Iachini con un grandissimo gol di Chiesa e dunque cambia il parziale al trentaduesimo mentre il numero venticinque della Fiorentina sta festeggiando direttamente con i tifosi posizionati in parterra di Maratona. Al trentaduesimo cambia il parziale dello Stadio Franchi. Fiorentina uno, Atalanta zero. Fiorentina un'azione bellissima nata dai piedi di Benassi che era riuscito ad arrivare al tiro, tiro respinto però dal colpo di testa di Palomino ha ricevuto la palla direttamente Chiesa, ben posizionato circa a 20 metri ha tirato un bellissimo colpo, un tiro scusate, con il piede destro e ha fatto gol non lasciando scampo al portiere dell'Atalanta Gollini. Stava giocando meglio la formazione di Gasperini ma la Fiorentina alla prima opportunità è riuscita ad andare in gol. Davvero bellissimo il gol di Federico Chiesa che negli ultimi minuti stava svegliandosi e si stava vedendo perché se nei primi minuti non era riuscito a supportare la sua formazione poi invece negli ultimi minuti era riuscito anche a confezionare un assist nei confronti di Cutrone e poi è riuscito invece ad andare in gol. Torniamo a Fiorentina-Atalanta. Siamo al quarantesimo minuto, la Fiorentina punge in contropiede ma deve stare attenta a non sbilanciarsi, a non lasciare liberi gli attaccanti dell'Atalanta come in questo momento Papu Gomez stava arrivando verso il limite dell'area di rigore è intervenuto però ancora una volta ad anticipare il capitano della Fiorentina Pezzella su Duvan Zapata che qualche minuto fa aveva avuto un'ennesima occasione per riportare questa volta in pareggio la sua formazione ma poco dopo il gol del vantaggio di Chiesa si era riproposto ancora una volta in avanti proprio il numero 25 questa volta sulla corsia di sinistra e in contropiede ma ribattuto in qualche modo Pasalic che poi si è spinto in avanti era all'interno dell'area di rigore l'Atalanta che in questa ripresa attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione divisa da trasferta per la formazione bergamasca che sta per incaricarsi della battuta del calcio di punizione con palla leggermente spostata sulla destra il cross da parte di Ilicic con il sinistro ribattuto proprio da Vlaovic insiste però l'Atalanta con Papu Gomez ancora largo per Ilicic all'interno dell'area di rigore il numero 72 arriva il cross di Castagne colpo di testa ravvicinato da parte di Pasalic arriva il tiro da parte di Gosens ma la palla va di molto a lato della porta difesa dal portiere polacco della Fiorentina Dragoschi che rimette in gioco con i piedi nei confronti la palla la concede al difensore Milenkovic davanti però la Fiorentina con Chiesa brava ad approfittare da un errore di un giocatore dell'Atalanta cercava all'interno dell'area di rigore Vlaovic ma è stato più veloce di lui Froiler a far ripartire la sua formazione dunque quando siamo arrivati al quarto del primo tempo non cambia il parziale rispetto al quarto del secondo tempo scusate non cambia il parziale rispetto a quello che era successo invece nel primo tempo la Fiorentina è in vantaggio per 1-0 erano i confronti dell'Atalanta in gol al 32esimo del primo tempo Chiesa e la linea può andare a Udi è il settimo della ripresa Pordenone 1 Livorno 0 e Livorno che attacca a caccia del pareggio scusa intervengo da Firenze arriva immediatamente il pareggio da parte dell'Atalanta con Zapata e dunque cambia ancora una volta il parziale al quarto minuto il pareggio dell'Atalanta con Zapata molto bravo però a fornire, a confezionare l'assist all'interno dell'area di rigore Papu Gomez su un'azione nata ancora una volta da Ilicic Zapata dall'interno dell'area piccola ha messo alle spalle di Dragoschi e dunque siamo arrivati al quinto della ripresa Fiorentina 1-Atalanta 1 e la linea può andare a Udine quando siamo al decimo della ripresa intanto il tiro da parte di Pulgar la palla che sfiora la traversa ricordiamo però il parziale quando siamo arrivati al decimo della ripresa di 1-1 tra Fiorentina ed Atalanta l'Atalanta è riuscita a pareggiare il conto dopo il gol del vantaggio di Chiesa al 32esimo del primo tempo con Zapata al quarto minuto della ripresa bello il cross morbido all'interno dell'area di rigore di Gomez Zapata si trovava all'interno dell'area piccola e ha messo alle spalle di Dragoschi l'Atalanta che sta manovrando però sulla linea del centrocampo la formazione di Gasperini che ha ripreso in mano le redini del gioco e che sta di nuovo facendo la partita con Toloi sulla corsia di destra scambia e si accentra con Floirel ancora c'è Papu Gomez al limite dell'area di rigore Pasalic il tiro di sinistro ma la palla va al lato della porta difesa da Dragoschi alla sua destra e dunque sarà rimessa dal fondo per la Fiorentina in questo secondo tempo ad avere le opportunità è stata soltanto fino a questo momento l'Atalanta c'è una pillola statistica che riguarda Zapata che ha segnato in 5 delle 7 trasferte disputate in questo campionato ed ha segnato con questo pareggio la sua ottava rete manovra la Fiorentina sulla linea del centrocampo con Castrovilli in verticale per Vlaovic all'interno dell'area di rigore il numero 28 prova il destro la ribattuta da parte del portiere Gollini che poi riesce in due tempi comunque a bloccare a far ripartire in contropiede l'Atalanta con Zapata cerca di liberarsi della marcatura di Pezzella ma Milenkovic consegna la palla a Dragoschi e siamo arrivati al diciottesimo della ripresa Fiorentina 1 Atalanta 1 e la linea va a Udine limita l'area di rigore la conclusione la deviazione di un difensore dell'Empoli scusami Manuel Codignone del Codignoni dell'Atalanta con Malinowski al ventisettesimo della ripresa e dunque va in vantaggio passa in vantaggio la formazione di Gasperini Fiorentina 1 Atalanta 2 quando siamo arrivati al ventisettesimo e la linea torna Manuel Codignoni d'accordo Sara Meini e ripartiamo da Fiorentina-Atalanta è certo che il portiere della Fiorentina si è fatto sorprendere molto da questo tiro di sinistro di Malinowski e ovviamente Malinowski che è riuscito a portare in vantaggio la sua formazione al ventisettesimo della ripresa l'Atalanta sta ancora attaccando sulla corsia di destra con Castagne ma interviene Pezzella e sarà fallo laterale per la Fiorentina quando si dice un cambio azzeccato da pochissimi minuti era entrato proprio Malinowski al posto di Pasalic ed è stato lui a portare in vantaggio la sua formazione la Fiorentina che sta manovrando con Badel cerca spazio sulla corsia di sinistra dove c'è posizionato Chiesa si accentra il numero 25 prova il tiro dal limite dell'area di rigore con la palla che sfiora la traversa va al piccolo trotto per recuperare recuperare il pallone il portiere Gollini gli facendo anche l'arbitro Mariani di non perdere tempo e di rimettere subito in gioco la palla si innervosisce anche il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini se finisse così ovviamente l'Atalanta salirebbe a 42 punti scusami Inni è finita Udine Pordenone Livorno hanno chiuso sul 2 a 2 a te mai la formazione di Bergamo aveva effettuato così tanti punti dopo 23 giornate di Serie A la palla però ce l'ha tra i piedi il portiere della Fiorentina Dragoschi lancio lungo per Vlaovic siamo al limite dell'area di rigore ma interviene a liberare Palomino ovviamente si allunga la formazione atalantina e perde anche tempo mentre dall'altra parte c'è la Fiorentina che è un po' in confusione sta cercando in qualche modo il pareggio ma non ci riesce la formazione di Iachini anche perché nel secondo tempo non è riuscita molte volte ad arrivare al tiro cosa che per la verità non aveva fatto neanche nel primo tempo ma era stata molto furba a approfittare di un errore da parte dell'Atalanta quando con Palomino con un colpo di testa ravvicinato aveva appunto fatto un assist praticamente senza volere per Chiesa è arrivato al tiro il numero 25 la sua conclusione velenosa era stata inserita alle spalle del portiere dell'Atalanta Gollini c'è davanti però la Fiorentina riparte in velocità con Dalbert ma interviene su di lui proprio Tamezze ed ecco il triplice fischio Atalanta batte Fiorentina per 2-1 allo stadio Franchi in gol al 32esimo del primo tempo Chiesa che aveva portato in vantaggio la Fiorentina poi l'Atalanta ha pareggiato il conto al quarto della ripresa con Zapata e ha ribattato il risultato al 27esimo con Malinoski il finale dal Franchi Atalanta batte Fiorentina 2-1 bene sentiamo allora il commento e torniamo da Sara Meini per questa vittoria preziosa dell'Atalanta sulla Fiorentina sale a 42 punti dunque la formazione di Gasperini che fa il colpaccio allo stadio Franchi di Firenze battendo per 2-1 la Fiorentina mai l'Atalanta nella sua storia dopo 23 giornate di Serie A era riuscita a fare così tanti punti ricordiamo che a passare in vantaggio nel primo tempo era andata la Fiorentina al 32esimo con un bel gol da parte di Chiesa mentre i giocatori dell'Atalanta stanno esultando con i tifosi che sono nel loro spicchio all'interno dello stadio Franchi era passata in vantaggio la Fiorentina che è andata in vantaggio proprio alla fine del primo tempo e poi l'Atalanta è stata brava a crederci a ribaltare il risultato nella ripresa al quarto minuto ha pareggiato il conto Zapata e poi al 27esimo da poco entrato sul terreno di gioco ha portato in vantaggio la sua formazione Malinoschi e dunque l'Atalanta riesce a tornare alla vittoria seconda sconfitta invece consecutiva per la formazione di Iachini il finale dal Franchi prima di restituire la linea allo studio con la collaborazione tecnica di Andrea Tomacelli Atalanta batte Fiorentina per 2 a 1 studio